Il premio Le ragioni della nuova politica è stata l'occasione per celebrare le eccellenze dell'italianità eccellenze trasversali nel mondo della cultura, dell'economia, del pensiero ma anche del sociale ed è per questo che in questo contesto grazie anche al lavoro di Sara Iannone ho potuto ricevere un prestigioso riconoscimento Io Così è una realtà che si occupa di lotta alla violenza di genere di diritti, di contrasto alle discriminazioni ed è per questo che sono orgogliosa di poter essere qui presso l'Avvocatura Generale dello Stato È un onere e un onore essere qui perché dinanzi a tanti nomi così prestigiosi personalità, naturalmente il davviso anche di dover essere all'altezza si sente tutto Io ce la sto mettendo tutta con la realtà che non è mia e delle persone che come la compongono al Vice Presidente Monti le persone che quotidianamente ci mettono all'impegno, all'agricidità ma soprattutto le competenze che è una parola che va assolutamente riscoperta e praticata quindi grazie a tutti, grazie a Sara sono veramente felice e emozionata di essere qui Grazie a tutti Grazie a tutti